cari amici tanti saluti da Serafino Massoni il blogger neodataista 666 sembra quasi che mi rimproveri amichevolmente del fatto che io non abbia ancora parlato del plagio di cui viene accusato Vittorio Sgarbi si meraviglia sì caro neodataista 666 tu hai ragione io ne avevo avuto conoscenza di queste notizie giornalistiche se non che da qualche tempo io cerco di dare la precedenza alle sollecitazioni dei blogger alle domande dei blogger e faccio dei video che sono diciamo così sono in sintonia con le domande che mi rivolgono i vari blogger e trascuro un po un po altre notizie che pure mi starebbero a cuore per esempio la notizia adesso sulla questione dei rapporti tra chiese e omosessualità va bene bene allora ma siccome questa anche questa volta la sollecitazione mi viene da un blogger bene parliamo di questa faccenda io ho dedicato uno dei miei romanzi il marinaio delle antille l'ho dedicato ai falsari vedete il motto dei falsari non so se riuscite a leggerlo questo è una mia creazione questo motto ricreare il creato creare il non creato per rendere il mondo più bello ma c'è una differenza tra il falsario e il plagiatore o perché il il falsario il vero falsario e ce ne sono stati tanti nella storia della civiltà si porta il suo segreto nella tomba i grandi falsari quanti ce ne sono stati sono stati capaci capaci di riprodurre i quadri dei grandissimi scritto scritto e pittori in una maniera ancora più bella più perfetta scusatemi l'espressione più perfetta di degli stessi originali ma il falsario non può rivelare la sua identità deve portarsi il segreto nella tomba se no le sue creazioni i suoi falsi non valgono più niente diverso il caso di chi plagia di chi fa consentitemi il termine il ladro di galline avevo già fatto tre filmati sul grande professore universitario umberto garimberti che è stato riconosciuto anche dalla magistratura autore di 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 plaggi ma io ne ho sempre parlato parlato in maniera benevola di umberto garimberti perché lì siamo di fronte a un caso particolare sul plagio ci sono tante 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 teorie vari blogger di cui mi dispiace non ricordo il nome mi hanno fatto osservare che ci sono dei detti che dicono che la persona la persona creativa fa 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 le sue creazioni il genio copia mi pare che sia così grosso modo è comunque il plagio è sempre un plagio non fa una bella figura a colui che copia fa la figura del ladro di galline tempo fa io ho ho fatto questo filmato aldo grasso e il plagio aldo grasso e il plagio perché perché due giornalisti due giornalisti televisivi che forse voi li conoscete e giancarlo totto e andrea piccinini e si sono sentiti come dire un po accusati dal grande critico televisivo aldo grasso del corriere della sera accusati che una loro opera sulle televisioni si era ispirata troppo a un saggio dello stesso aldo grasso e siccome i due giornalisti giancarlo totto e alessandro piccinini avevano detto in un articolo che offrivano a chiunque di fare l'arbitro io mi sono offerto come arbitro arbitro e presto mi arriveranno le opere sia dei due giornalisti sia dei due giornalisti che l'opera di aldo grasso in modo che io possa fare la comparazione e poi e poi ne darò notizia notizia sul web tramite un filmato ora qua e caro caro amico neodataista 666 io l'avevo visto questa mattina l'articolo su quello della sera poi sono andato anche a scaricare l'altro l'altro l'articolo che tu mi hai citato apparto sulla repubblica qua sembra proprio che il nostro bravo vittorio sgarbi si tiri fuori dicendo che il plagio c'è ma non è opera sua è opera di un suo collaboratore un suo collaboratore va bene probabilmente vittorio sgarbi se la caverà io seguirò nei prossimi giorni come si sviluppa la vicenda seguirò molto attentamente e vedremo vedremo per il momento vittorio sgarbi dice io non ho copiato da nessuno è stato un mio collaboratore una mia collaboratrice che nel fare un'introduzione o una prefazione al mio ultimo saggio saggio e l'estenuata eleganza di sandro botticelli e è stato lui che ha fatto il plagio bene vedremo come si sviluppa la faccenda vedremo come sembra comunque che la faccenda del plagio da 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 qualche anno e sia seguita con la dovuta attenzione dai mass media e adesso con con il grande web c'è poco da scherzare perché quello che prima poteva rimanere chiuso negli ambiti giornalistici televisivi adesso va sul grande web e il grande web da quanto mi risulta è molto più seguito della stampa e della televisione allora caro amico neodadaista come vedi io ho risposto subito alla tua sollecitazione se la tua sollecitazione non c'era però domani io se la fino massoni te lo posso assicurare l'avrei trovato il tempo di farci un filmato però però ho voluto ho voluto a consentire subito alla tua sollecitazione in maniera che questo mio video appaia come si dice in tempo reale in contemporanea quasi ai quotidiani che ne hanno parlato perché i quotidiani che ne hanno parlato sono di oggi e io stasera sempre oggi sempre oggi 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 è mercoledì 3 dicembre 2008 io mercoledì 3 dicembre 2008 faccio questo filmato faccio questo filmato e vi dico che della questione sono molto interessato anche perché ho una certa competenza in quanto questo romanzo il marenaio dell'antille è tutto ambientato nel mondo dei falsari dei falsari e che operavano nel terzo rai terzo rai il falsario lo definito uno che si attiene a questo motto ricreare il creato creare il non creato per rendere il mondo più bello lo spiegherò meglio questo motto in un'altra occasione in un'altra occasione va bene va bene caro amico neodadaista 666 ti ringrazio tanto per la tua sollecitudine nei miei confronti ringrazio tutto tutti voi che mi avete ascoltato e a tutti cari saluti da serafino massoni grazie a tutti